Il rapporto sessuale era consensiente, era un rapporto diciamo particolare così come viene descritto dal giudice nell'ordinanza di sicurezza cautelare, ma era consensiente. Per cui il reato di violenza sessuale nei confronti della moglie, non della ex moglie, perché non erano separati, non esiste. E questa la versione di Luigi C, il 37enne arrestato a Cortona per maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni e porto abusivo d'arma. Mi ha stuprato in piena notte mentre nella stanza accanto c'erano i nostri figlioletti che dormivano, invece l'atroce denuncia della moglie 27enne. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra il 23 e il 24 maggio nei pressi di un'abitazione in località Mezzavia nel comune di Cortona. Quella notte l'uomo aveva riportato i figlioletti nell'abitazione dove viveva con la moglie e poi era tornato una seconda volta, ma notte inoltrata, e aveva trovato la 27enne in compagnia di un amico. In genere se uno trova la moglie in macchina con un altro alle due di notte nei sedili posteriori non dicono preghiere e quindi evidentemente si arrabbia. Lui però ha confermato di aver picchiato il ragazzo e la donna? Sì, di aver tolto il ragazzo dalla macchina, il giovane dalla macchina, sì, e di aver tolto dalla macchina con fare piuttosto robusto la moglie, sì. Ad ogni modo, secondo il racconto della donna, il 37enne era diventato una furia trascinandola fuori dall'auto e prendendo a calci lei e l'uomo in sua compagnia. Poi avrebbe costretto la donna a salire in casa e qui sarebbe avvenuto l'abuso. Lui ora è ristretto presso il carcere di Terni in isolamento perché per questo titolo di reato c'è appunto l'isolamento, la protezione è una sezione protetta e si è messo in moto quel meccanismo micidiale dove è effettivamente difficile uscirne. Comunque lui e io come suo difensore sosteniamo che il rapporto era consensuale. La donna nel frattempo avrebbe raccontato di maltrattamenti continui durante il matrimonio, botte che sarebbero state proprio la causa della fine della loro unione. Voi siete comunque fiduciosi in attesa di un processo per dimostrare la vostra verità. Esatto, la vostra, la verità.